Voi non ve lo ricordate, ma quando siete nati siete piombati di colpo in un mondo completamente estraneo, dopo nove mesi passati immobili e al buio. Un neonato infatti deve imparare tutto, non solo a parlare, a camminare, ma deve anche imparare a vedere, perché all'inizio le immagini non hanno alcun senso, deve imparare a sentire, a riconoscere ciò che vedi intorno, a calcolare le distanze per afferrare un oggetto, eccetera. Gran parte degli apprendimenti dell'infanzia sono fatti attraverso gli errori, tipico è l'imparare a camminare che avviene con continue cadute. Nell'età adulta sbagliare però diventa più problematico, perché un chirurgo non può imparare attraverso gli errori, e così pure il pilota di un aereo. Per questo esistono in ogni attività professionale regole, ma anche piccoli accorgimenti per evitare di sbagliare.